No, no, a me l'unica cosa che mi è successa vagamente simile è stata adesso in questi mesi con lo zoo di 105 mi hanno sospeso due giorni per una battuta Mi hanno sospeso? Non la sapevo sta cosa L'unica cosa, sai, mi hanno sospeso nella più importante radio in Italia Raccontaci tutto di questa storia subito, ti prego Ma infatti quando parlavi di Kanye West pensavo che fosse una citazione Beh, allora era... Una citazione a Kanye West senza sapere la tua storia Però questa non la sapevo Perché praticamente a un certo punto... Ma scusate, ti sospendono come a scuola, cioè cos'è sta cosa che per due giorni tu non puoi andare... Racconta, vai, vai, vai Praticamente io appunto mi chiamo Valerio Eroro Kielmeier Quindi durante una puntata, sei veramente un signore Durante una puntata mi chiedono ma perché ti chiami Eroro Kielmeier? L'ho fatto, cioè perché mio nonno era tedesco Mio nonno ha ucciso un sacco di ebrei Questa è stata la battuta Ah questa era la cosa? Questa è stata la battuta E lì c'è stato un attimo di panico generale E poi durante la diretta abbiamo detto lo sospendiamo noi prima che lo sospenda la radio direttamente Ci chiude il programma Ok Quindi in quella... direttamente dopo che l'hai detta ti hanno... Sì, mi hanno silenziato il microfono e poi i due giorni successivi non ci sono andati in onda Non è stato proprio immediatamente perché poi ho avuto anche modo tra virgolette di mettere una pezza Però la pezza era assolutamente... Come hai provato? Allora io la difendo la mia pezza Non è stata ritenuta Bellissima premessa Sì, voglio sapere questa pezza Io quello che volevo dire poi nei tempi di radio ti parlano sopra Ma quello che volevo dire io era Io posso anche chiedere scusa perché è stata improvvisata questa battuta così Senza un contesto in maniera totalmente gratuita Però non è vero che non si possa scherzare su queste cose, no? Ah sì, che ci sta? È un modo di stigmatizzare le tragedie, scherzarci sopra Poi il modo in cui io l'ho fatto effettivamente non aveva un contesto ed era infelice Vuol dire dal nulla mia nonna ha ucciso un sacco di brei potrebbe essere preso come gratuito Ah, ci sta No, ma sul momento non l'ho detta così bene perché ripeto ti entra sopra, ti parla Però è quello che volevo dire Ma scusa, quindi tu hai detto questa cosa, si è gelato lo zoo di 105, tu sei riuscito a gelare lo zoo di 105? Ma succede ogni tanto Ok Herbert Ballerina non diceva cose sul nonno che... Ma infatti una cosa che mi fa ridere è che c'è Paolo Nois che ogni tanto mi dice Ma noi ti abbiamo preso come una figura diversa da noi, come un intellettuale Ma quando mai non c'è un Stato? Cioè tu dovevi essere l'intellettuale È per l'aere moscia È per l'aere moscia È perché sembri cuccini quando parli Parloci di Bologna, del 68 a Bologna Bologna di Norte Scusa ma per curiosità, tuo nonno tedesco ha fatto veramente la guerra? No, no, mio nonno faceva l'infermiere E curava i nazisti Era da quella parte Il modo che fossero il più possibile informati Il modo che potessero ammazzare più ebrei possibile Però mio nonno era la persona più buona Certo, a parte questo A parte il piccolo particolare Però a me faceva ridere Cioè mi fa ridere Associare una realtà storica Cioè che i tedeschi di quegli anni lì Hanno ucciso degli ebrei È una realtà oggettiva Cioè non è che c'è da... E in questo modo però Posso dire, sono orgoglioso Perché il nome Il nome Rockelmeier A cui io tengo parecchio Perché ho iniziato a utilizzare Il doppio cognome Ero Rockelmeier Da quando è morta mia mamma Due anni fa Ok A suo modo L'ho reso Sì Un qualcosa di Di reale, no? Dice Ah effettivamente Ero Rockelmeier Cioè perché ha fatto la battuta sugli ebrei Infatti a me fa ridere questa cosa Che tu hai scelto questo cognome Quando è morta tua madre Che è una cosa bellissima Molto romantica Molto... Poi però per giustificarlo E poi ti chiedono Ma perché l'hai scelto? Eh mio nonno ha ucciso degli ebrei Va bene? Perché lui non può dire Ma lui poteva dire Sai è morta mia madre E ci tenevo tanto Volevo ricordarla per sempre Volevo che fosse Parte del mio nonno No Eh mio nonno ha ucciso degli ebrei Ma forse Quelli veramente In gambe forti Direbbero Io sono una puttana Al servizio dello show Ok La sento come una frase E potrebbe dirti Uno cazzuto Ma no Ma tu hai mai rischiato Di perdere un lavoro Per una battuta Fuori luogo Che hai fatto? No No Questo no Ma anche perché sai Poi alla fine Io ho fatto Il Il milanese imbruttito Che lì Faccio L'attore Quindi Non c'è nulla di mio Cioè nel senso C'è l'interpretazione Però Non posso sbagare Anche se bestemmio Me lo tagliano Cioè No c'è E Problema risolta E adesso Allo zoo Appunto Per il momento Ho una sospensione Di due giorni Che ho fatto Da qui A fine stagione Non lo so Chissà Chissà Va bene No mi piace Come mai Iroh di cognome Beh era Il migliore amico Del duce E Mio nonno L'ho soprannominato Iroh perché gli piaceva Indossare le teste Dei suoi nemici A mo' di Iroh Infatti una cosa Che mi diverte È una roba Che mi fa ridere E rispondere Alla gente Che ti insulta Ok quindi tu rispondi Ma ogni tanto Così Quando vedo Pupune Mi sta simpatico Io rispondo Con un cuoricino Con un bacino No Eroh di cognome